eccomi qui in un posto veramente magico ancora una volta mi trovo l'antilope canyon e sentirete un po di rumore perché comunque è possibile visitare questo luogo senza una guida e quindi mi trovo qui con un gruppo date un'occhiata alla meraviglia di questo luogo e non vi parlo dell'energia che ovviamente c'è qui c'è un'energia molto forte divina che fa vibrare la roccia il pavimento il corpo è veramente forte quindi connettetevi lascio il campo aperto perché possiate sentire questa energia vibrante che lavora è impossibile fermarsi a meditare perché comunque come vi ho detto sono con un gruppo comunque l'energia lavora lo sapete benissimo basta l'intenzione quindi connettetevi e ricevete questa meraviglia un abbraccio poi posterò qualche foto magari ciao